Buongiorno a tutti. Siamo qui con Andrea Maddalena, architetto e studioso d'arte, dal 2000 è residente in Olanda a Amesfort ed è anche un musicista. È vero, è vero. Buongiorno, Vincenzo. Bravissimo, secondo me, mia personale opinione. Grazie. Sentirete delle belle musiche, più in là. Dal 2018 Andrea è docente di simbolismo e storia dell'arte presso la Fry Academy. Che cos'è la Fry Academy, Andrea? Diciamo che la Fry Academy è un'accademia, come dice il nome, libera, nel senso che praticamente raccoglie una serie di docenti. Esiste da, se non mi sbaglio, 30 anni e praticamente raccoglie tutta una serie di docenti di diversa estrazione. E in parte anche ai stranieri, per cui ho la possibilità di potervi accedere, il che mi onora. Quindi, diciamo, è un'accademia, diciamo, indipendente rispetto al circuito universitario. E però comunque ha una sua, diciamo, ha una sua maniera di procedere, nel senso che si occupa di tantissimi argomenti, dai più classici, della storia dell'arte, del simbolismo. Praticamente, in questo momento è in piena espansione. Si occupa un po' di tantissime discipline. Per esempio, tra poco, anche Corona, situazione permettendo, ci siamo messi d'accordo che dovrei fare delle gite guidate per solo la città di Amersfoort. Interessante. Le abbiamo, diciamo, fissate alcune fine maggio, primi di giugno, quindi la fase è un po' ancora critica. Una l'abbiamo fissata per la fine di agosto. Quindi, per dare un'idea di come si muove. Organizzano viaggi all'estero. E poi, veramente, affrontano tutte quante le discipline. Quindi, diciamo... Beh, quindi, diciamo, questa intervista, noi abbiamo pensato di farla perché tu sei un rappresentante dell'arte italiana in Olanda. Beh, faccio del mio meglio. Mi onora. Questa cosa è una cosa che mi onora. E allora... Porti, porti la cultura italiana in Olanda e lo fai attraverso una serie di conferenze, oltre al tuo, diciamo, lavoro di docente. Organizzi anche delle conferenze, a cui poi sul tuo sito, che vedremo più avanti, si potrà avere più informazioni. La cosa interessante è che una delle conferenze più di successo che hai portato in Olanda è quella sui 500 anni, l'anniversario dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci. Esatto. E oggi tu ci parlerai proprio di questo, vero? Un concentrato, un concentrato di, diciamo, di questa... L'occasione è bella perché, come dici tu, l'anno scorso sono 500 anni dalla sua morte. Nel mio caso la cosa era partita già da prima perché Leonardo da Vinci, praticamente, sto raccogliendo materiale su di lui da più di 20 anni. E praticamente già almeno dieci anni fa si erano presentate delle occasioni per fare delle conferenze su Leonardo presso le Dante Alighieri in Belgio e in parte anche presso le Dante Alighieri in Olanda. Erano cominciate in italiano, poi sempre più in olandese e quindi, infatti, adesso, con i 500 anni, molte, diciamo, come si dice, scuole... È diventato un must, no? È diventato un must nella... Beh, sì, poi soprattutto poi me lo chiedo... Un ambiente artistico olandese. Me lo chiedo nel olandese, me lo chiedo nel olandese, che la cosa, diciamo, facilita il fatto che poi me lo chiedano e quindi io lo faccio volentieri. E quindi sì, diciamo, ecco, è un momento in cui Leonardo viene chiesto molto. Senti, le conferenze su Leonardo l'anno scorso ne sono state fatte tantissime da tutte le istituzioni italiane, però la tua presentazione è un po' particolare. Perché? È particolare perché nel senso che un po' da quasi tutte le mostre che io sono andato a visitare sono rimasto un po', come dire, un po' deluso. Ho la sensazione che di Leonardo da Vinci venga analizzato alla parte più, come dire, più superficiale, tra virgolette, del lavoro di Leonardo. Le macchine, anche, diciamo, le parti di cui è più facile parlare... Quelle più visibili. Quelle più visibili, e lo dico con il massimo rispetto perché, voglio dire, già è un argomento di grandissimo interesse. Però ho la sensazione che poi si perda l'occasione di andare più a fondo. E quindi si perde l'occasione di parlare della parte più sottile del lavoro di Leonardo. E allora, vediamo cosa ci racconti oggi su Leonardo. Allora, diciamo, io ho fatto un concentrato di informazioni e di immagini e io a un certo momento vado avanti. Sarà un bel concentrato intenso. Allora, io comincio. Farò qualche cosa durante la sorpresa. Va bene, va bene. Allora, io intanto comincio. Comincio con il... Allora, qui con l'aiuto di Zoom. Allora, cominciamo con il condividere. Questa schermata... Allora, io, diciamo, per cercare di rendere il più chiaro possibile i punti su cui voglio battere, ho cercato di trovare delle parole chiave. Allora, vado subito con la prima. Vinci, che è il luogo di nascita. Però, in realtà, e questo tanto per mettere subito le cose in chiaro per quanto riguarda Leonardo, Vinci non è soltanto il luogo di nascita. Qui, per tutta una serie di informazioni che io dirò, devo anche ringraziare una bellissima conferenza che, poco prima di arrivare in Olanda, ebbe in occasione di, diciamo, fu invitato da architetto e praticamente nel 2000, diciamo, nell'autunno, nel 2000 ci fu presso la, diciamo, l'ambasciata svizzera di Roma una conferenza di uno dei più grandi, praticamente, studiosi italiani di Leonardo, che sono Alessandro Pezzosi. Una serie di concetti li riprendo da lui, altri li riprendo da altre parti. Vinci non è soltanto un luogo di nascita, ma è anche il nome delle piante che crescono vicino al fiume Vincio, che prende il nome dalle piante e il fiume a sua volta dà il nome alla località di Vinci. Allora, questi Vinci, praticamente, cosa sono? Sono delle piante che hanno una struttura, un disegno complesso. E, in qualche modo, Leonardo, un po' per... Alcuni dicono come una sorta di firma per far capire da dove viene. Io penso che sia un riferimento da dove viene. Non è sempre una firma, perché, però, diciamo, praticamente, tenendo conto del fatto che questi Vinci hanno, queste piante, hanno, diciamo, un andamento molto, 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 molto complesso, praticamente, come una sorta di arabesco, un disegno complesso. Cioè, una struttura, diciamo, complessa, dal punto di vista... Una struttura complessa, esattamente. Biologico e architettonico, come si può dire. Sì, in qualche modo Leonardo poi sembra avvalersene utilizzandolo, questo è Vinci, ovviamente, ma utilizzandolo in alcuni, ecco perché forse non è corretto definirlo come una firma, ma in alcuni dei suoi, diciamo, dei suoi dipinti ci sono, per esempio, ecco, se vedete il mouse, se guardate nella spalla destra della dama con l'ermellino, che io reputo, in ogni caso, uno dei suoi ritratti più belli, facendo una zoomata si riconosce che praticamente ci sta nella spalla destra una, diciamo, questo gioco di arabeschi che in certi momenti si ritrova anche in altri dipinti e in altri no. La sensazione è che Leonardo, che non fa mai le cose a caso, voglia in qualche modo dire qualcosa a chi sia in grado di capire, diciamo così. Quello anche che, quello che poi vengono definiti i cosiddetti nodi vinciani, c'è tutta quanta una teoria al riguardo e, diciamo, una risposta definitiva forse ancora non si è mai trovata su questa cosa, però Leonardo, in certi dipinti, utilizza questi nodi vinciani, probabilmente come una sorta di linguaggio per degli iniziati. Quello che poi è anche interessante a vedere qua sulla dama del melino, che lo mette proprio, questi arabeschi, proprio nella parte in penombra della spalla, mentre dall'altra parte non si vede nulla. E qui praticamente, ecco, voglio fare questo punto dei vinci perché in qualche modo Leonardo, voglio far capire che Leonardo va sempre oltre le apparenze di quello che fa vedere e quindi c'è sempre, sempre qualcos'altro dietro. Ci sono più livelli dietro e, diciamo, già il fatto stesso dell'utilizzo di questi arabeschi misteriosi ne sono un esempio. Un'altra parola chiave è illegittimo. Leonardo è un illegittimo. È nato da una relazione non legittima tra il papà, che era un notaio, e Caterina, che era la sua, diciamo, una ragazza che lavorava lì, diciamo, lì a casa. E qui c'è subito da chiarire che questa cosa è fondamentale perché poiché Leonardo è illegittimo, questa cosa già decide il suo destino dall'inizio. perché, nonostante il fatto che Leonardo venga, Leonardo è un esempio ottimo al riguardo, viene da una famiglia per generazioni di notari. Però tu puoi venire da una famiglia importante quanto vuoi, ma se sei illegittimo, alla fine, in un modo o nell'altro, ti si aprono solo due strade. Una è quella dell'artista e l'altra è quella del mercenario. Quindi, praticamente, troveremo anche nel corso del nostro incontro anche altri illegittimi artisti famosi, ma questo è fondamentale per definire subito Leonardo, perché questo stabilisce il suo destino da subito. Ci stanno delle teorie di Michele Proclamato, che ha scritto alcuni libri anche in parte su Leonardo, delle teorie, devo dire, splendide. Si parla di addirittura che questo potrebbe essere stato, come dire, pianificato a priori, questa situazione. Perché laddove si incontra un artista con il nome che poi ha a che fare con Leonardo, con il Leone, ci sono delle teorie, come per esempio Battista Alberti, anche lui era un illegittimo, e poi è stato dato il nome Leone, Leon Battista Alberti. Da cui sembra, però, qui diciamo, voglio dire, e qui mi fermo perché è un argomento che non si trova nemmeno su Wikipedia, però, insomma, ci sono delle teorie interessanti e che vale la pena di, insomma, ci sarebbe una sorta di corrente appartenente ai Rosa Cruciani che praticamente, in qualche modo, si occuperebbe di scegliere le persone più adatte nel corso della storia a tramandare la conoscenza agli uomini. In qualche modo, molti di questi hanno a che fare con il nome Leone, Leonardo. Adesso lo dico semplicemente così. Ci sono dei libri bellissimi. È molto interessante, è un po' fantascientifico, no? Ma c'è della letteratura ben precisa su questa cosa. E proprio nel momento in cui se ne parla poco, a volte sono proprio quelle cose stuzzicanti. Però io, diciamo, questa cosa mi limito a metterla lì. È semplicemente così per stuzzicare chi ci ascolta. Inquadrare un po' il personaggio anche, no? Anche inquadrare il personaggio che è sempre avvolto dal mistero. Tra poco vedremo anche, infatti, che il mistero è una delle parole chiave. Autodidatta. Leonardo dice da subito, e lo dice anche non senza orgoglio, homo sansa lettere io sono, nel senso che io non ho una preparazione accademica. E potremmo dire a priori, meno male, perché se Leonardo fosse stato incanalato da una parte come a diventare notaio, dall'altra parte se fosse stato incanalato in un contesto accademico che lo avrebbe frustrato, annoiato da subito, magari forse non sarebbe diventato quel Leonardo, che poi è diventato Leonardo praticamente fino ai 16 anni, anche in virtù di questa situazione scomoda che si era creata a casa della relazione illegittima del papà, è stato mandato a casa del fratello del papà, che era in campagna, lo zio, e praticamente tutta l'adolescenza, fino praticamente ai circa 16 anni, Leonardo l'ha vissuta in campagna, libero di osservare la natura come voleva lui e da cui poi anche, diciamo poi, bisogna dire, sia autodidatta, però diciamo anche poi tutte le cose come stanno, perché subito dopo i 16 anni, grazie a quel network eccezionale che da notaio aveva il papà, il papà praticamente poi subito dopo, siccome non è subito e vede che Leonardo ha del talento da artista e che di Leonardo non verrà fuori nessun notaio, ma lui porta praticamente Leonardo a Firenze, lo accompagna a Firenze e lo porta in quella che è praticamente una fuscina di arte ed è praticamente l'atelier che riceve gli incarichi più importanti della Firenze e dei medici di allora e che è appunto l'atelier di Andrea del Verrocchio. Io perché faccio vedere questa immagine di Santa Maria del Fiore? Perché, se guardate il mouse, l'altezza dal livello del terreno fino alla palla, che è questa palla che è, diciamo, sta sopra la lanterna della cupola e che ha un diametro di praticamente circa 5-6 metri e pesa di rame e praticamente pesa più di 2 tonnellate, voi pensate, allora, quant'è la distanza tra il terreno e la cima delle lanterne? Sono 116 metri. Uno degli incarichi dell'atelier del Verrocchio è stato quello di mettere sopra questa cupola, sopra questa lanterna, questa palla gigantesca di bronzo di oltre 2 tonnellate e ce ne vuole, diciamo, in termini di conoscenza, in termini di tecnica, soprattutto di argani, di gru. Probabilmente Leonardo è stato affascinato dai meccanismi, dalle gru, quei disegni che poi lui farà dopo proprio nel contesto dell'atelier del Verrocchio perché qui evidentemente si faceva di tutto, si faceva di tutto. Per darvi un'idea, qui, chi incontra Verrocchio? Allora, chi sono i suoi, diciamo, medecorsisti? Cioè, gli studenti che, praticamente, insieme a lui imparano l'arte, diciamo, sotto, diciamo, il controllo di Andrea del Verrocchio, nel Verrocchio vero occhio. Praticamente sono Sandro Botticelli. Allora, Sandro Botticelli, futuro affrescatore della Cappella Sistina. Pietro Perugino, futuro affrescatore della Cappella Sistina e futuro maestro di Raffaello. Cosimo Rosselli, lo lascio nel rosso perché alcuni dico... Raffaello, scusami, Raffaello di cui quest'anno, invece... Esatto, bravissimo. Il cinquecentesimo anniversario della morte. Esattamente. Quindi Raffaello e Leonardo si sono sovrapposti per un periodo, diciamo, più o meno breve. Per un periodo di alcuni anni, perché poi... Esattamente, bravissimo e grazie che lo dici, perché è proprio quest'anno del cinquecentenario della morte di Raffaello, l'anno scorso il cinquecentenario della morte di Leonardo. I due hanno convissuto per un certo periodo, Leonardo e Raffaello avevano anche una grande ammirazione per Leonardo. Poi è successo che Raffaello è morto giovane, ha circa trentott'anni o qualcosa del genere. E invece Leonardo è morto a... Erano... Adesso... E' comunque sia nel 1519 ed erano tra i sessanta e i settant'anni. Adesso vuol dire... Scusate, non me lo ricordo. Allora, Cosimo Rosselli lo lascio in rosso perché alcuni dicono che non era nell'atelier, però c'è qualcuno che dice che invece c'era, anche lui. Lo lascio in forze, forse è più no che sì. Però in ogni caso, Domenico Ghirlandaio, che poi oltretutto anche lui futuro affrescatore della Cappella Sistina e futuro maestro di Michelangelo. E oltretutto poi abbiamo Lorenzo Di Credi e poi abbiamo Leonardo Da Vinci. Cioè, per darvi un'idea, guardate che squadra e che quantità di informazioni che devono essere state scambiate in questo atelier di Andrea del Verrocchio. Lo trovo una cosa veramente impressionante. Allora, andiamo avanti, quindi autodidatta, però insomma, specificando anche che poi c'è stato il periodo di apprendistato nell'atelier di Andrea del Verrocchio che è stato eccezionale. Allora, andiamo avanti. Allora, qui che succede? Eccolo qua. La meraviglia. La meraviglia è quella cosa che ha animato Leonardo sin da giovane. Un po' anche un consiglio, diciamo, per noi, perché in qualche modo ogni volta, ogni giorno, lì in aperta campagna, era un'occasione per studiare, per vedere gli animali, le piante. Lui che è stato sempre affascinato dall'acqua, dal canalizzare l'acqua, l'acqua che sarà fino al momento quasi della morte e sarà praticamente uno dei suoi ultimi pensieri e la capacità di poter incanalare l'acqua. Tutte queste cose lui le ha imparate, aveva in qualche modo questo senso della meraviglia che lui aveva da, in qualche modo ci era nato e questa cosa lo ha aiutato e lo aiuta con la sua fame, con la sua curiosità. E' una cosa che mette in connessione Leonardo con Olanda, la sua propensione per i canali di acqua. Anche se vogliamo, perché poi, voglio dire, Leonardo aveva progettato, purtroppo ha avuto la sfortuna di fare tutta una serie di progetti che per un motivo o per l'altro non verranno realizzati, però sia in Italia che poi negli ultimi tre anni in Francia della sua vita, lui ha fatto dei progetti che se fossero stati realizzati sarebbero stati dei progetti così grandi che poi lui ha sempre questo ampio raggio d'azione grandissimo. Erano dei progetti urbanistici veramente impressionanti, grandi come nessuno aveva mai fatto prima. Quindi per certi aspetti non mi sorprenderebbe se Leonardo ha fatto, anche se sulla teoria, ha fatto scuola anche qua, perché no? Anche qua in Olanda, dove il discorso dell'acqua è sempre così presente. Magari è una cosa da approfondire per una prossima conferenza. Magari, magari, volentieri, volentieri. Qualche allievo magari di Leonardo, poi è arrivato in Olanda e ha dato... Magari, magari. C'è sicuramente da approfondire il discorso, assolutamente sì. Va bene. Andiamo avanti qua. Andiamo avanti. Il mistero. Allora, il mistero è, diciamo, secondo me è una delle parole chiave principali per capire Leonardo. Allora, mistero per la sua vita, perché praticamente della vita di Leonardo ci stanno tantissime cose che non si sanno, non si sanno, non si sanno bene com'è. E io qua c'è sempre, secondo me, un campanello d'allarme perché nel momento in cui, quando c'è un artista di chiara fama che ha i riflettori sempre costantemente addosso e che improvvisamente, cioè improvvisamente a un certo momento non se ne sa qualcosa, io ho sempre la sensazione, io dico sempre che la storia viene raccontata a due livelli. C'è la storia che ci raccontano e poi c'è la storia come veramente è delle cose che sta dietro le tende e che non ci raccontano. Secondo me, nel momento in cui c'è un artista di cui non si sanno le informazioni, vuol dire che questo artista in qualche modo lavora dietro le tende. Questa, diciamo, è una mia convinzione al riguardo. Ma ne potremmo parlare a lungo. Per esempio, nel periodo fiorentino di Leonardo, nessuno dice che due anni della sua vita, dal 1476 al 1478, Leonardo per due anni sparisce. Leonardo per due anni sparisce. Un sabbatico. Un sabbatico. Un sabbatico, diciamo. Qualcuno me lo dovrebbe spiegare questa cosa. Di crescita personale, perché poi subito dopo cosa fa? Torna e fa la gioconna. No, adesso... Beh, voglio dire, lui è ancora nel primo periodo fiorentino. Poi lui si sposta a Milano, dove ha presso gli sforza, poi lì comincerà a lavorare, anche tra le altre cose, sull'ultima scena. Però voglio dire, uno che sin da subito attira l'attenzione, che sparisce per due anni, scusate, non lo dice nessuno. Questa cosa io non la capisco. Questa cosa va detta, va detta. E non la dice nessuno. Per due anni lui sparisce, non ci stanno documenti, non ci stanno... È come se lui fosse svanito proprio dall'esistenza. Oltretutto, poi, vuol dire, parliamo del mistero. Vuol dire, qui, tutto quello che riguarda Leonardo, la vita è misteriosa, perché questo è un presunto autoritratto. Ma non abbiamo neanche la certezza che sia veramente lui. Ma soprattutto, poi, c'è quel senso di mistero insito nella sua arte. e che rende, diciamo, il suo lavoro così affascinante. Spero, diciamo, in qualche modo di averne il tempo abbastanza per poterne raccontare qua con te. Ecco, un altro aspetto fondamentale di Leonardo, Leonardo è mentale. Leonardo è mentale e ci sono diversi aspetti, diversi punti di vista da cui possiamo dire che Leonardo è mentale. Faccio un esempio. Questo disegno famoso con il giovane e il vecchio che vengono contrapposti l'uno all'altro. Queste sono una... In qualche modo noi avvertiamo la necessità di pensare che non è un caso che queste due... Ci sia una relazione tra questo vecchio e questo giovane. C'è chi dice che questo in realtà il vecchio sia un artista che stia in qualche modo facendo una scultura di questo giovane. Altri invece pensano che sia un vecchio e un giovane che siano forse la stessa persona che si contrappongono in due momenti diversi della propria vita. Però in qualche modo noi sentiamo che c'è un legame tra questi due. C'è qualcosa di più sotto e questo fa parte da una parte del mistero di Leonardo e fa parte dall'altra parte dell'aspetto mentale di Leonardo perché sentiamo che c'è c'è qualcos'altro. Uno dei primi ritratti che fa Leonardo presso il suo apprendistato a Firenze presso l'atelier del Verrocchio è questo di Ginevra de Benci. Praticamente Ginevra che sembra che insomma avesse diciamo non fosse neanche maggiorenne in quel periodo probabilmente aveva 16 anni era stata appena data in sposa a Luigi Nicolini che ce ne aveva 34 e allora praticamente Leonardo cosa fa? A parte il fatto che comincia a lavorare in sottofondo allora diciamo un'altra cosa fondamentale di Leonardo ogni dipinto di Leonardo è un organismo e nel momento in cui si studia anche lo sfondo di Leonardo ogni sfondo di Leonardo è studiato perché deve contribuire alla storia di quel dipinto e soltanto di quel dipinto quindi praticamente lo sfondo che sta in quel dipinto significa che deve stare lì perché accentua la storia il simbolismo il significato e sta soltanto lì deve stare soltanto lì Leonardo comincia diciamo a muoversi in questo senso con uno dei suoi sfondi però soprattutto Leonardo mette la pianta di Ginepro dietro alla figura di Ginevra e allora qua bisogna fare uno sforzo da parte nostra perché il Ginepro è una pianta che viene utilizzata per dare diciamo come simbolo diciamo di due virtù la castità cioè la castità e la virtù nel senso della 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 purezza e e allora qui capiamo anche che Leonardo fa un gioco mentale per diciamo e chiede anche uno sforzo da parte nostra per far capire qualcosa di intimo di profondo della personalità di Ginevra che tra l'altro non sembra molto allegra e probabilmente però questo e questo ha a che fare con l'aspetto fondamentale di Leonardo Leonardo sa molto bene come lo sanno i principali artisti ma Leonardo in questo senso è veramente una 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 testa di ariete in questo senso l'artista ha il dovere di rappresentare in un modo o nell'altro la verità la verità e quindi e questo è un concetto che tra poco rivedremo perché è fondamentale e quindi in qualche modo forse è proprio questo il motivo per cui c'è questa Ginevra malinconica però Leonardo può farlo vedere l'interiorità insieme all'esteriorità di Ginevra e quindi voglio dire e questo è quello che Ginevra ha dentro e quindi Ginevra la fa vedere in questo modo qui c'è il profilo del capitano antico il cosiddetto il condottiero quanto Leonardo è mentale a un certo momento noi siamo affascinati da questo da questo profilo fatto con diciamo così dei segni a matita e già ci dà l'idea del carattere di una persona però che salto mentale facciamo noi nel momento in cui io vi dico che questa qua non è soltanto un condottiero ma è una costellazione questa qua è una rappresentazione di Leonardo della costellazione dell'Ariete e allora già nel momento in cui dico una cosa del genere noi facciamo tutta un serie di salti mentali perché cominciamo a vedere la cosa da completamente tutta un'altra prospettiva molto più ampia rispetto a quello che pensavamo all'inizio e questo è veramente tipico di Leonardo qui allora diciamo che si può dire che la grande eredità che noi abbiamo ricevuto da Leonardo e dal suo modo di pensare il suo modo superandi sono i suoi tantissime pagine di disegni di schizzi che lui ci ha lasciato soltanto 15.000 di questi appunti sono diventati poi quello che sarà diventato postumo dato in incarico al suo diciamo figlio adottivo Francesco Melsi come incarico quello di raccogliere queste 15.000 pagine e di farci il cosiddetto quello che diventerà il trattato della pittura di Leonardo che Leonardo dirà tutto quello che un pittore deve sapere perché per Leonardo diciamo la disciplina fondamentale la più alta era la pittura la seconda era la musica ma la prima era la pittura perché attraverso la pittura Leonardo riusciva a far vedere l'anima delle persone allora insieme a tutti questi altri disegni noi dovremmo avere la pazienza di studiarceli questi disegni allora per esempio qui ci stanno dei gatti allora alcuni di questi gatti se noi osserviamo in maniera particolare vediamo che sono lo stesso gatto visto da diverse prospettive così come se ci fossero diverse camere che stanno guardando questo gatto e questo ritorna perché Leonardo utilizzava anche un apparecchio che si chiamava il prospettrografo e che sconsigliava anche di usare i cosiddetti principianti perché in qualche modo li avrebbero aiutati troppo ma aiutava a vedere un oggetto diciamo da otto punti diversi di vista anche qua all'otto c'è un significato non è un numero a caso fatto sta insomma che a un certo momento noi vediamo questi gatti che a un certo momento alcuni giocano altri sono lo stesso gatto visto dalla stessa da diverse prospettive e poi a un certo momento questi gatti si trasformano si trasformano in draghi e allora quando c'è il drago allora arriva San Giorgio e poi dopo va ancora va ancora più in là perché noi vediamo alcuni disegni dove a un certo momento Leonardo fa vedere una pianta poi a un certo momento dei rami poi a un certo momento questi rami diventano acqua poi a un certo momento su questi rami da questi rami non si capisce bene ci stanno delle nuvole da queste nuvole cominciano a uscire fuori degli angioletti alcuni di questi angioletti hanno delle trombe allora poi a un certo momento questa cosa diventa un vortice di qualcosa poi come una sorta di conoscenza circolare ritorna all'acqua di partenza e qui diciamo che c'è uno dei concetti fondamentali per capire Leonardo Leonardo è diciamo pensa in maniera diversa rispetto a come noi uomini ma anche uomini moderni ma noi è da quando siamo è da Aristotele che siamo abituati a dividere e a suddividere le varie discipline senza stare a cercare il legame delle varie discipline tra di loro invece Leonardo dice cari signori l'albero della conoscenza è uno è uno solo e allora ecco che attraverso questo modo di pensare lui comincia a disegnare qualcosa poi a un certo momento comincia a fare un riferimento per quanto riguarda il simbolismo poi comincia a fare un riferimento perché pensa no questo però ha a che fare con l'acqua poi a un certo momento no però questo ha a che fare con quell'animale che sta così tutto ha una serie di collegamenti perché tutto è collegato con tutto e noi facciamo una gran fatica a seguirlo in questo senso un certo momento anche qua vediamo questa immagine con questo con quest'aquila qui c'è chiaramente un significato molto simbolico però sono tutti quanti messi insieme perché Leonardo sa benissimo che tutto è collegato con tutto e sta a noi la fatica di capire per quale motivo lui ha fatto così e piuttosto che in un altro modo da cui un'altra parola chiave fondamentale Leonardo è multidimensionale per fare una parola più semplice potremmo anche dire multidisciplinare però diciamo multidimensionale perché ci sono diversi livelli proprio su cui Leonardo lavora ce n'è uno poi ce n'è un altro ce n'è un altro poi ce n'è un altro ancora ed è tutto un continuo così e questo è dovuto al fatto che Leonardo sa benissimo che tutto è collegato con tutto e noi non siamo abituati a ragionare in questo senso con questo modo diciamo dove inscatoliamo dove questa è quella disciplina c'è quell'orticello c'è quella disciplina quindi questo modo di pensare lo dobbiamo proprio mettere via perché allora poi scopriamo delle cose fondamentali di Leonardo qui faccio vedere due immagini che sono dei piccoli omaggi io non parlerò di macchine in questo nostro appuntamento tanto famose voglio dire qualcuno che 400 500 anni in anticipo è riuscito a prevedere certe cose però a un certo momento io vi consiglio andatevele a sfogliare voi c'è anche digitalmente qui c'è per esempio il codice atlantico a un certo momento giravo e a un certo momento vedo questo io vedo una cosa del genere a un certo momento penso a una turbina penso a qualche cosa che io vado qua dietro al complesso industriale dove lavorano da lunedì al venerdì a un certo momento io penso di vedere una cosa del genere questa sembra che sia una macchina fatta per fare un foro e contemporaneamente per centrare questo foro per farlo esattamente al centro di questo corpo poi vedo un'altra cosa come questa voglio dire questo qua sarebbe una macchina che lui avrebbe inventato per tagliare praticamente i tessuti in maniera molto precisa ma quando io vedo la macchina di prima e vedo una macchina come questa penso a delle macchine moderne industriali si esattamente industriali dici bene come se lui avesse in qualche modo messo le basi per un tipo di produzione a catena che poi sarebbe arrivato dopo nel 1800 e io questa cosa la trovo veramente impressionante questi disegni delle macchine sono molto diversi da quelli che abbiamo visto prima quelli che abbiamo visto prima erano molto diciamo orientati a forme artistiche che poi magari si interconnettono anche con macchine con strumenti ma questi sono molto molto tecnici sono molto diversi sono questi sono diciamo due periodi diversi o si sovrappongono nella vita di Leonardo io credo che Leonardo e Leonardo si sovrappongano assolutamente Leonardo ci aiuta a capire in questo senso e qui Leonardo è proprio un esempio ma ci sono tanti altri artisti che diciamo operano e ragionano come lui anche qua noi siamo abituati a dividere la scienza dall'arte invece la scienza e l'arte fanno parte dello stesso blocco conoscitivo e Leonardo praticamente non fa nessuna differenza lui passa continuamente dall'una all'altra cosa tra poco vedremo un'immagine di Salvador Dalì e a un certo momento Salvador Dalì io a questo punto lo anticipo e ti ringrazio che mi hai fatto questa domanda perché Salvador Dalì dice a parte il fatto che lui vedeva in Leonardo l'ultimo grande artista con la A maiuscola ma poi Salvador Dalì diceva che peccato che ci siano gli scienziati che non sappiano nulla d'arte e invece poi ci sono gli artisti che non sanno nulla di scienza questo per far capire per far capire che noi la chiamiamo arte e scienza dall'altra ma in realtà sono praticamente due rami dello stesso tronco della conoscenza su cui Leonardo non ha problemi a passare continuamente dall'uno all'altro costantemente dall'uno all'altro l'anatomia qui ci stanno alcuni alcuni esempi a un certo momento Leonardo come ha fatto a ottenere dei segni così Leonardo per il bene della conoscenza faceva dei lavori che venivano anche visti con molto sospetto dall'esterno perché voglio dire tu devi aprire sezionare un corpo e soprattutto quando lo fai non è che lo fai a luce del sole lo fai da nascosto perché non vieni ben visto però quindi chissà lui andava non lo so la sera sicuramente aiutato da qualcuno perché gli doveva reggere la luce andava lì a aprire poi a disegnare insomma doveva essere un lavoraccio però a un certo momento vedo questi disegni che sono praticamente sono stupendi perché a parte il fatto che potrebbero essere potrebbero venire fuori da un libro di università moderno che per esempio dove studia la complessità della spalla e poi va bene lui si dice sempre allora diciamo che Leonardo bazzica in una quantità enorme di discipline però una di quelle diciamo su cui ha dato veramente il maggiore contributo è l'anatomia e in particolare diciamo che veramente la conoscenza del prima e dopo di Leonardo sarà fondamentale per quanto riguarda l'occhio Leonardo darà un contributo enorme per quanto riguarda l'occhio e questo c'è un perché c'è un perché perché questa è un'altra cosa che non viene detta mai e qui se io ho la cosa e ti ringrazio che tu mi dai la possibilità di dirlo perché non viene mai sottolineata è vero che Leonardo disegna i muscoli disegna i tendini disegna le ossa perché è chiaro che vuole capire cosa succede nel corpo nel momento in cui qualcuno viene ritratto ma Leonardo Leonardo va ancora più a fondo Leonardo studia praticamente a un certo momento lui si vede che vuole cominciare a capire dov'è il principio vitale dell'essere e praticamente allora comincia a studiare la colonna vertebrale e a un certo momento c'è un esperimento famoso che lui che è sempre amante della vita rispettoso della vita però deve fare si deve fare violenza e praticamente fa una vivisezione di una rana per capire il suo comportamento quindi gli toglie il cuore però la rana comincia a muoversi gli toglie la pelle che è un organo però la rana continua a muoversi ma in un certo momento gli toglie tutta una serie di organi la rana continua a muoversi finché non recide il diciamo la colonna vertebrale e allora apparentemente capisce capisce che e lì la rana non si muove più e allora capisce che praticamente da una parte c'è la colonna vertebrale era responsabile della vita e il midollo spinale è la sede dell'energia riproduttiva perché poi c'è tutto quanto il collegamento con in questo fatto c'è un pene ma Leonardo va ancora più avanti Leonardo va ancora più avanti lui usa tre parole di cui una di queste parole non è stata mai utilizzata da nessuno parla dell'imprensiva della memoria e del senso comune allora l'imprensiva è praticamente anche qua devo ringraziare Alessandro Bezzosi per questo che dico l'imprensiva sarebbe un termine che nessuno mai prima e nessuno dopo Leonardo ha usato la parte del cervello preposta alle impressioni quindi un tramite tra gli occhi e quello che poi chiama il senso comune il senso comune è dove risiede l'anima e la memoria sarebbe questa terza parola è questa sorta di bibliotecario di questa biblioteca enorme insomma Leonardo e questa è una cosa che nessuno dice Leonardo seziona un corpo perché alla fine si vuole vedere tutte le parti ma lui vuole sapere dove sta l'anima lui vuole capire dove sta l'anima della ricerca dell'anima quindi esattamente ed ecco anche uno dei motivi per cui Leonardo impegna tantissimo sforzo e diciamo ricerca sull'occhio perché l'occhio è la porta dell'anima cioè è almeno il punto di partenza dice se io comincio a seguire dove va poi l'occhio in qualche modo posso arrivare all'anima posso arrivare all'anima quindi l'aspetto l'aspetto visivo è molto importante più dell'aspetto ingegneristico per dire meccanico hanno uguale uguale valore purtroppo diciamo della parte sottile non se ne parla mai però voglio dire Leonardo parla chiaramente di questo senso comune come il punto di arrivo dei nervi cioè dove la percezione nervosa viene esaminata quindi la sede delle esperienze consce la sede delle esperienze consce e Leonardo questo problema se lo pone se lo pone quindi diciamo c'è la parte cosiddetta meccanica ma un organismo è meccanico più qualche cosa di sottile e Leonardo alla fine questa cosa è importante perché lui da una parte lavora tantissimo sull'occhio ma alla fine il risultato lui lo fa vedere quando c'è un ritratto questo che è uno dei più belli secondo me di Leonardo la dama con l'ermellino altrettutto poi ha fatto anche una scuola perché praticamente è molto innovativo spesso sono frontali oppure sono di lato invece qui abbiamo uno con le spalle girate in un modo e la testa girata in un altro questo diciamo quasi nessuno l'aveva fatto prima e oltretutto poi c'è l'ermellino ha in mano questo ermellino questa probabilmente è Cecilia Gallerani l'amante principale di Ludovico Sforza il Moro che era il signore di Milano ma perché l'ermellino l'ermellino a un certo momento con questo sfondo nero pre Caravaggio che in qualche modo ha anticipato Caravaggio proprio perché lui ci fosse una sorta di luce che andasse direttamente su Cecilia si pensa che sia Cecilia Gallerani a un certo momento la risposta a questo mistero riguardo l'amante l'ermellino lo si trova in uno dei suoi disegni perché si vede che c'è un ermellino si vede che questo ermellino viene cacciato c'è un uomo che cerca di prenderlo e a quel punto l'ermellino si trova di fronte all'acqua e deve fare una scelta o viene preso e a quel punto viene tatturato oppure si tuffa in acqua e diciamo mantiene la sua libertà però perde la propria purezza e sembra da un'interpretazione di questo disegno che l'ermellino scelga di mantenere la propria purezza quindi viene preso piuttosto che diciamo perdere la propria purezza perde la propria libertà e in questo modo oltredutto poi però Leonardo ci chiede uno sforzo ulteriore perché Cecilia Gallerani Galè in greco antico Galè significa ermellino e in questo modo praticamente Leonardo fa il link tra diciamo definitivo tra Cecilia e l'ermellino e attraverso la qualità dell'ermellino si capisce il carattere l'anima di Cecilia e quindi praticamente come una sorta di flash Cecilia si gira da una parte anche l'ermellino si gira dalla stessa parte come se entrambi fossero catturati dalla stessa fonte sonora come se vengono distratti tutti e due l'ermellino si divincola allora un po' a fatica Cecilia cerca di prendere di tenere l'ermellino e a quel punto paff Leonardo fa la foto di Cecilia niente a caso niente niente a caso nei disegni nei dipinti di Leonardo la foto dentro e fuori dentro e fuori Cecilia quindi fa vedere l'anima niente a caso mai niente a caso Leonardo e questo è uno degli aspetti anche poi per esempio Leonardo lavora sui feti perché quando per esempio lui starà in Francia una delle cose che rimarrà uno dei grandi quesiti per Leonardo era capire qual è il momento in cui praticamente l'anima questa così importante anima arriva nel feto del diciamo nel grembo materno quando ci arriva allora quando lui stava in Francia che sono stati gli anni in qualche modo più tranquilli della sua vita alla corte del re Francesco I Leonardo tranquillamente chiedeva anche tutta una serie di pubblicazioni di libri e il re Francesco gli diceva guarda ti rimedio tutto quello che vuoi tra questi c'era anche il libro di un famoso Francescano del XIII secolo che era Roger Bacon e lui praticamente era uno che aveva studiato molto i feti quindi Leonardo cercava di capire anche qual era il momento sarà uno dei suoi più grandi quesiti quando arriva diciamo l'anima sul feto in quale momento e Leonardo e poi ecco abbiamo Leonardo tiene sempre costantemente d'occhio ovviamente utilizza le proporzioni le proporzioni e qui c'è un altro aspetto fondamentale di Leonardo perché attraverso poi le proporzioni arriviamo a questo che è uno dei diciamo simboli delle icone di Leonardo l'uomo l'uomo vitruviano assolutamente sì l'uomo vitruviano che tra parentesi viene ripreso da Vitruvio quindi non è neanche un'invenzione di Leonardo però Leonardo fa vedere così bene come l'essere umano praticamente può essere tranquillamente proporzionalmente iscritto dentro un cerchio e dentro un quadrato questa cosa ha delle implicazioni anche questo non si parla abbastanza di questa cosa perché questa ha un'implicazione simbolica enorme perché il quadrato da sempre è simbolo della terra i quattro venti i quattro elementi le quattro direzioni il cerchio è l'indivisibile è l'infinito si gioca anche costantemente su queste due punti di partenza e punti di arrivo anche nell'architettura sull'architettura abbiamo un altare è sempre circondato da quattro pilastri quindi l'altare è la terra sopra l'altare c'è la cupola che è il cerchio quindi che è l'infinito quindi si va dalla terra all'infinito e viceversa perché è a doppia via Leonardo dice cari signori caro uomo volete capirlo sì o no visto che voglio dire il fatto che un uomo sia inscritto contemporaneamente in un quadrato e in un cerchio uomo lo vuoi capire o no che sei tu il ponte tra il cielo e la terra lo vuoi capire che sei tu il ponte tra il cielo e la terra e questa con tutta poi le responsabilità della questione della questione ovviamente perché questo è splendido è una bella responsabilità e voglio dire Leonardo in qualche modo cerca di farlo capire ha aiutato tantissimo da uno dei più importanti matematici dell'epoca che era Luca Pacioli e Luca Pacioli fu quello che definitivamente lo diciamo aiutò Leonardo a capire che letteralmente la geometria è una porta di ingresso per tantissime discipline è una porta di ingresso per tantissime discipline e a quel punto se noi ci mettiamo a guardare questo qua ecco questi due cerchi che condividono l'uno il centro diciamo dell'altro come due cellule che si sono appena che si stanno riproducendo formano questo spazio in mezzo che diciamo può essere utilizzato in maniera orizzontale o in maniera verticale in maniera verticale viene nel mondo dell'arte chiamato anche la mandorla o la vescica pisci cioè la vescica del pesce la vescica natatoria nel momento in cui viene utilizzato in maniera orizzontale questo spazio dà quello che viene definito il pesce quello che poi dai cristiani che non si sono inventati niente verrà Gesù definito il pesce ma in realtà il pesce è una cosa che viene da molto molto prima è vero ictus jesus christos teus ios oder dal greco antico gesù figlio di dio salvatore è vero ma in realtà il concetto del pesce viene da molto da molto da molto prima e se voi andate a guardare questa figura che viene diciamo ottenuta dal moltiplicare di questa figura geometrica molto semplice tante volte si ottiene quello che viene definito il fiore della vita il fiore della vita che sarebbe la base di tutte le strutture organiche la base di tutte le strutture organiche viene anche utilizzato come viene definito decorazione in tantissimi contesti artistici tra l'altro ci si possono inserire delle strutture molto complesse come le sefirot quello che poi viene definito il cubo di metatron non vado oltre però questo patrono che viene definito il fiore della vita Leonardo se lo studia Leonardo se lo studia se lo studia è come quindi anche che mi si vuole cercare di far spacciare Leonardo come un empirico come qualcuno che se io non vedo non credo questa cosa è falsa perché Leonardo lavora tantissimo sull'aspetto fisico ma Leonardo lavora tantissimo anche sull'aspetto metafisico metafisico una lettura interessante inutuale inutuale che onestamente sono rimasto ad ascoltare quasi senza riuscire a dire una parola perché veramente sei veramente questa capacità di darci di darci anche di comunicarci questa emozione nello spiegare delle cose a volte anche complicate ma con si capisce che hai una passione interna per queste cose io ti ringrazio ti ringrazio perché mi dici così e ti ringrazio perché mi dai la possibilità di parlarne io penso che la cosa più bella sia trasmetterle queste cose non c'è non c'è nulla di più bello perché nel momento in cui c'è una bella storia che può essere raccontata quando non viene raccontata è un peccato è veramente un peccato bisogna anche essere bravi a raccontarlo lo storytelling è importante gira questa parola che molti in passato maneggiavano molto meglio ma è giusto che si che si dia a Cesare qualche di Cesare tu sei molto bravo in questo cosa abbiamo ancora diciamo posso andare ancora abusare ancora del tempo perché è molto interessante preferisco che tu ti prendi il tempo che serva per va bene allora io ho ancora alcune immagini a farvi vedere sull'onda di questa di questo lavoro geometrico che evidentemente su cui Leonardo di cui Leonardo si occupa io adesso vado rapidamente però anche su questo c'è degli studi veramente splendidi fatti da Michele Proclamato che ha scritto un libro in questo caso su Leonardo da Vinci che si chiama Genio Sonico dove praticamente lui dimostra che attraverso lo studio di queste figure adesso non vado assolutamente in dettaglio di questi cerchi che poi tutti quanti hanno a che fare poi alla fine con il numero 8 che ritorna tantissimo si tratta di uno studio del suono del suono che poi viene applicato a tantissime altre discipline e a un certo momento la cosa diventa così affascinante che si ritrovano queste figure su quella che a un certo momento vado a confrontare vado a vedere altri libri a un certo momento vedo che quello anche in questo caso il signor programmato dice con bacia perché a un certo momento ritorna con una a un certo momento con un tipo di geometria che porta fino a quella geometria dello yin e dello yang che poi viene utilizzata dal dal taoismo e a un certo momento si vede poi che Leonardo procede con la geometria e a un certo momento è uno studio sonico diciamo geometrico sonico ma a un certo momento la cosa che io trovo da architetto assolutamente affascinante è vedere come queste figure geometriche un po' alla volta prendono la forma di forme architettoniche che poi verranno utilizzate nell'architettura e quindi praticamente la motivazione geometrica sonica alla base di forme architettoniche che alla fine poi praticamente vanno a sfuciare in forme complesse come quella del rosone di una cattedrale dove praticamente in qualche modo e lo dico proprio sottolinea diciamo come dire molto concentrato il rosone di una cattedrale sta a diciamo a rappresentare la complessità della frequenza sonora a cui praticamente la cattedrale o l'impianto architettonico stesso è stata impostata cioè un'architettura impostata sul suono e al presente si va a scoprire che forme complesse come quelle del rosone da delle forme complesse come quelle del rosone si evince la frequenza sulla quale è impostata la stessa architettura questo è un gioco interdisciplinare assolutamente affascinante ritorno un attimo su alcuni schizzi che faceva Leonardo e qui voglio dire è una cosa che anche questa pochissimi di cui pochissimi parlano e per far capire quanto Leonardo si spinge in avanti per quanto riguarda anche l'aspetto proprio l'aspetto metafisico proprio della realtà o l'aspetto perlomeno ancora più sottile della realtà adesso io poi ti faccio vedere cambiamo bruscamente di argomento ma riprendiamo quanto abbiamo detto prima questo è uno dei primi lavori fatti da Leonardo Leonardo probabilmente stava ancora a Firenze quando l'ha fatto viene definito incompiuto qui è per far capire come Leonardo si muove perché Leonardo è uno dei gli artisti che maggiormente lavora sulla come dire la comunicazione della verità io qua devo fare veramente un appunto fondamentale fondamentale per Leonardo ma alla fine dopo 20-25 anni di osservazione di storia dell'arte di architettura io a un certo momento vedo che i più importanti artisti lavorano nello stesso modo praticamente da parte dell'artista c'è la consapevolezza la consapevolezza di dover fare e questa è anche la complessità proprio la missione dell'arte nel senso che un'opera d'arte ha diversi aspetti c'è un aspetto più come dire fisico dove c'è una la parte preparatoria la parte iniziale quella che a un certo momento ti viene data dal tuo maestro praticamente il maestro che in questo sarebbe stato Andrea del Verrocchio nei confronti di Leonardo che cosa fa vede un giovane noi siamo abituati all'idea dell'artista che si sveglia la mattina a un certo punto dice ah io qua voglio dipingere faccio questo ok questo è con tutto il rispetto è un aspetto un modo abbastanza superficiale dell'artista l'artista è qualcuno secondo i nostri diciamo predecessori e i nostri dove praticamente per tutti l'antichità l'artista è qualcuno che sin da giovane viene visto da un maestro e gli dice guarda io vedo che tu hai talento allora sai cosa facciamo tu vieni con me andiamo a fare un viaggio insieme per anni dove io praticamente ti insegno anzitutto l'uso dei materiali la parte segreta dei materiali le proporzioni e tutto quanto la conoscenza delle leggi della natura che tu devi sapere e non importa se architettura pittura scultura ma che tu devi sapere perché devi essere in grado anzitutto di fare un qualche cosa che rispetta le leggi della natura da un punto di vista fisico e dal punto di vista della parte sottile della materia le proporzioni le leggi della natura dopo che hai cominciato a incamerare questa serie di informazioni c'è la fase 2 la fase 2 io comincio tu sei più pronto a ricevere un certo tipo di informazioni e hai le spalle più robuste io ti dico ti comincio a raccontare come sono andate veramente le cose con quello che la Chiesa Cattolica definisce Gesù ti dico veramente come stanno le cose per quanto riguarda la natura dell'uomo per quanto riguarda la natura dell'universo per quanto riguarda la creazione dell'uomo e poi ricordati che questa verità che io ti dico tu in un modo o nell'altro dovrai trovare il modo di metterla e sarà il tuo dovere di metterla nell'arte di metterla nel lavoro e anche correndo dei rischi perché dovrai anche in alcuni casi dire le cose non troppo chiaramente perché se no rischi di venire bruciato dall'inquisizione quindi tu dovrai essere bravo da una parte a raccontare la verità perché in questo modo sarà l'unione dell'opera d'arte della cosiddetta bellezza cioè che risponde alle leggi della natura risponde alle leggi dei materiali risponde a tutta la parte naturale del materiale e in più c'è la verità avendo queste due cose ecco perché io chiamo tutte le mie conferenze su Leonardo la sintesi del bello e del vero la sintesi del bello e del vero quando c'hai un'opera d'arte che è sintesi del bello e del vero e questo è un aspetto sottile dell'opera d'arte che noi non conosciamo o di cui non parliamo volentieri quello che è bello qua sulla terra attira qualcosa di bello dal cielo quello che è proporzionato che è giusto e diciamo attira qualcosa di bello di proporzionato e di giusto dall'alto quindi praticamente c'è un aspetto sottile dell'opera d'arte che nel momento in cui è verità e bellezza attira verità e bellezza come uno specchio dall'alto in altre parole l'opera d'arte diventa un ponte tra il cielo e la terra e questo è il motivo io non lo capivo questa cosa nei miei anni precedenti di studio ma questo è il motivo per cui tutti i potenti del mondo faranno carte false ogni volta per avere accanto a sé per avere accanto a sé gli artisti più bravi perché in questo modo e questo vale per una pittura per una scultura per un'architettura fino alla progettazione di una città in qualche modo nel momento in cui tu fai una progettazione che rispetta la regola diciamo della natura e la verità tu sei in condizione ecco perché è così difficile tu lo impari dopo anni e anni a primi stato tu sei in grado di ripetere di ricreare la creazione divina tu sei in grado da artista sei diventi un uomo con un potere perché tu ricrei letteralmente la creazione divina e questo ancora insisto sul fatto per cui tutti i potenti del mondo faranno di tutto per avere accanto a sé gli artisti più bravi gli artisti più bravi da cui e qui Leonardo in questo senso è quasi spietato nel modo con cui spiattella una certa verità sotto il nostro naso faccio questo esempio dell'adorazione dei magi qualcuno dovrebbe far notare è che se noi andiamo a parlare non soltanto della tecnica certo non è finito però qui c'è una anzitutto un'adorazione dei magi molto poco ortodossa diciamo nello sfondo c'è una quantità enorme una quantità enorme di movimento là dove dovrebbe essere un momento di pace arrivano i re magi hanno trovato finalmente il bambinello ma che dietro c'è un movimento che non finisce più oltretutto sembra che dietro hanno fatto delle prove con l'infrarosso sono fuori ancora più cose sembra che ci siano dietro dei ruderi di un tempio cristiano su cui sopra viene ricostruito un tempio egiziano sui ruderi di un tempio cristiano dice ma Leonardo scusa ma che che stai dicendo oltretutto poi voglio dire adorazione dei magi c'è Maria e San Giuseppe dove sta Giuseppe non ci sta oltretutto poi che cosa vengono dati dai tre diciamo re magi viene dato l'oro incenso e la mirra l'oro non c'è attenzione l'oro non c'è non c'è allora voglio dire che cosa stai cercando di dirmi caro caro Leonardo e certamente un po' alla volta si vede qual è diciamo l'opinione che Leonardo ha su Gesù Leonardo Gesù in un modo o l'altro non lo riconosce Leonardo Gesù non lo riconosce e oltretutto poi dice sì quest'opera non è finita non è finita e te credo io diciamo è una mia ipotesi ma a me non mi sorprenderebbe se qualcuno che ha dato qua l'incario dice Leonardo fermate 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 perché qui abbiamo un problema io e te fermate scusami non ho capito questo ha che fare anche con il discorso dell'illegittimità di Leonardo oppure non è una connessione lecita da fare ma io credo che l'illegittimità di Leonardo sia semplicemente collegata al fatto che ha aperto sin dall'inizio la strada la sua carriera d'artista da subito non ha non ha un influsso poi nella nella concezione per esempio del Cristo in questo momento io credo che la concezione dell'influsso del Cristo come dici tu io credo che abbia avuto veramente delle informazioni fondamentali nell'atelier del Verrocchio esattamente nello stesso posto dove quelle stesse informazioni sono state distribuite al Ghirlandaio al Botticelli al Perugino è un parallelo quindi fra questi e l'arte io infatti non credo non credo assolutamente all'importanza più di tanto dell'influsso artistico del momento io penso che l'artista visto il suo dovere di dover rappresentare la realtà prende le sue informazioni dal maestro e quelle informazioni vengono tramandate oralmente oralmente proprio senza documenti proprio perché sono delle informazioni scabrose sono delle informazioni che scottano però hanno a che fare con la verità e qui c'è la missione dell'artista che laddove non può far vedere le cose direttamente allora comincia a dissimulare comincia a dissimulare e a un certo momento noi andiamo avanti tra parentesi vedete qua che qua c'è Leonardo tra parentesi qui c'è si dice un autoritratto il Leonardo che non guarda la scena come per dire ma a me non me ne interessa proprio niente e poi qua a un certo momento se si fa una zoomata si riconosce quello che diventerà vedete questa mano il gesto il gesto che tornerà in altre opere di Leonardo che praticamente sembra dare una maggiore spazio a San Giovanni Battista piuttosto che a Gesù e a questo punto e a questo punto comincia e qui ci ho fatto una conferenza tutta quanta solo a parte per quanto riguarda San Giovanni ma qui non ti preoccupare io qui riassumo la prossima la prossima magari magari poi ci metteremo d'accordo se vuoi se vorrai io allora diciamo molte poche persone fanno notare il fatto che di Vergine delle Rocce ce ne stanno almeno due una che è quella dell'Uvra e a un certo momento qua è la prima e a un certo momento ci sono dei Francescani che danno a Leonardo l'incarico di fare questo incontro tra le famiglie praticamente di Gesù rappresentato qui dalla Vergine però resta un termine Vergine chi è la Vergine e dall'altra parte ci sarebbe la famiglia di Giovanni Battista che sono tutte e due scappano in fase di Esodo verso l'Egitto perché ci sta un come dire ci sta un un diluvio che sta per arrivare allora qua c'è l'Arcangelo Uriele che è l'Arcangelo della Saggezza che è lo stesso Arcangelo che ha detto a Noè Noè preparate fai una barca grande perché sta per arrivare un diluvio quindi è lo stesso Arcangelo e a un certo momento lui guarda verso di noi e indica questa figura a un certo momento rimane un po' ambiguo dice ma chi è chi? dopo un po' che ci stai alla ragionare capisci che questa figura è Gesù che benedice quest'altro che è Giovanni anche qua diciamo rappresentato Giovanni nella storia dell'arte è sempre a fianco di Gesù sempre sempre insieme a Maria fanno un trittico un trittico che è costantemente presente e qualcuno mi deve spiegare per quale motivo io poi una teoria mia ce l'ho ma non mi basta pensare che ci sia il profeta del deserto che dice sia importante perché sono quello che ha battezzato Gesù c'è qualcos'altro sotto c'è qualcos'altro sotto c'è qualcosa di più fatto sta che la nostra vergine in qualche modo sembra avere una preferenza nei confronti di Giovanni piuttosto che di Gesù e lo stesso Arcangelo guarda verso di noi come per dire capisce a me guarda dove devi guardare c'è questa indicando e qui i francescani si sono stranni di tantissimo oltre tutto poi non ci sono aureole allora Leonardo dice ma questi sono uomini e allora i francescani dico ma Leonardo ma tu sei matto tu sei matto no questa cosa non si può fare non si può fare non si può fare ok allora ve faccio la versione 2 la versione 2 che è quella della National Gallery volete beccate laureole a questo punto poi l'ambiguità è andata via hanno tolto la manina dell'Arcangelo però l'Arcangelo non guarda più noi ma guarda chi devi guardare e cioè praticamente di nuovo San Giovanni e di nuovo c'è questa preferenza a questo punto poi si va guardate questo dettaglio dell'Arcangelo e guardate questa bella immagine di questo schizzo di questa giovane donna che era il pezzo forte della mostra che fecero al Tiles Museum alla fine nel 2018 nell'autunno del 2018 ad Harlem e insomma si capisce in qualche modo secondo me diciamo che poi questo schizzo ha fatto poi da spunto probabilmente per il viso dell'Arcangelo e qui c'è tutto Leonardo c'è quel mistero questo sguardo che ti guarda come per dire guarda capiscimi perché io ti sto raccontando un segreto impenetrabile ma nello stesso tempo racconta tante cose eh sì e nello stesso tempo invita invita a fare quel passo in più lo devi fare anche un po' tu quello sforzo in avanti e qui a un certo momento c'è tutta quanta la questione dell'ultima cena e qui veramente adesso faccio vedere soltanto per dare un'idea come sia un miracolo che ancora ce l'abbiamo questa ultima cena perché queste erano delle foto del bombardamento del cenacolo del refettorio di Santa Maria delle Grazie dove dove il cenacolo è e per voglio dire in qualche modo era come se fosse predestinato questa cosa che dovesse in qualche modo rimanere nel nel tempo io qua devo dire proprio a quella mostra ad Harlem al Tyler's Museum c'erano molti schizzi ma c'era una stanza dove a scala uno a uno da una parte c'era la riproduzione del cenacolo a Milano cioè quella di Leonardo e dall'altra parte in un silenzio devo dire molto profondo esattamente dall'altra parte c'è la copia più bella e più precisa che io non sapevo che sta in Belgio sta nell'abbazia di Tongerlo e praticamente qua quindi sta qui vicino è vicinissimo sta qua vicino io non lo sapevo e sembra che qua ci sia la diciamo la copia dell'ultima cena di Leonardo con i dettagli più chiari e più visibili addirittura ancora più nitidi e chiari dell'originale stesso copia fatta da copia fatta da buona domanda adesso devo dire non me lo ricordo devo andare un attimo comunque non è di Leonardo è di un altro no 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 non è di Leonardo è di un allievo o di qualcuno che praticamente o aveva avuto accesso ai disegni preparatori insomma è qualcuno che era molto vicino a Leonardo è facile ritrovare questa informazione assolutamente sì assolutamente sì adesso scusami non me lo ricordo molto interessante che esista una copia io non avevo onestamente non avevo idea neanche io e poi che fosse nell'abbazia qui in Belgio a Tongerlo veramente proprio devi sapere che io ho lavorato per tre anni a Milano e stavo ero diciamo non ero fuori sede stavo in un hotel che è l'hotel Palazzo delle Stelline che è esattamente di fronte al al Cenacolo e per tre anni ho tentato di andarci non sono mai riuscito a tornare in tempo dal lavoro per entrare perché era già chiuso ogni volta quando quindi io condivido la stessa sorte adesso voglio andare a vedere quella in Belgio appena riusciamo a viaggiare di nuovo assolutamente infatti abbiamo un attimo di pazienza però insomma il discorso poi io anch'io condivido la stessa sorte perché anch'io non ho avuto la possibilità di sono andato a Milano una volta e quella volta che ci sono andato a vederlo era in restauro quindi praticamente proprio sono rimasto spiegato poi ora c'era una è molto difficile andare adesso perché bisogna prenotare con largo anticipo non c'è più la possibilità di andare e entrare no perché poi ho un numero molto limitato di persone perché col fatto che con questa con il fatto che questo affresco ha avuto veramente una storia molto travagliata che non si sa se era Leonardo che aveva sbagliato se Leonardo l'aveva fatto apposta perché praticamente poi nel corso del tempo si autodetierorasse eccetera eccetera insomma tanti restauri lo vediamo adesso io praticamente quando sono entrato in questo ambiente ho potuto fare delle foto ho potuto fare delle foto e lì era l'unico ambiente in cui potevo fare foto mi sono scatenato proprio come un bambino in un negozio di giocattoli a un certo momento veramente proprio ecco io tu vedrai tra poco adesso se mi dai ancora qualche minuto vedrai che ci sono alcuni dettagli questa è ovviamente la copia uno a uno dell'originale di Leonardo allora io devo dire mi permetto assolutamente di riprendere un concetto che è stata molta fonte di discussione allora qui vicino a Gesù c'è una figura che praticamente è stata sulla base di quello che poi è stato detto da Dan Brown che ha fatto un po' diciamo da specchio per le allodole per tutti quanti che certamente ha cominciato a parlare in maniera dichiarata di qualcosa di cui già si parlava prima cioè del fatto che questa sia una donna e se sia una donna è molto probabilmente è nient'altro che Maria Maddalena ora c'è stato veramente un enorme tafferuglio nel 2016 nel 2016 nessuno dice che la Chiesa Papa Francesco ha riconosciuto in silenzio questa cosa è stata detta e poi non ne ha parlato nessuno ha riconosciuto nel 2016 che Maria Maddalena anzitutto non è la peccatrice non è la prostituta ma era uno degli apostoli più importanti di Gesù io trovo questa cosa a un certo momento detto questo mette a tacere tutto ma a parte questo di cui poi nessuno parla che ancora c'è questa cherella del fatto Maria Maddalena e Maria Maddalena io voglio dire ho una mia opinione sulle cose ma io ve lo faccio anche un attimo vedere allora qui c'è Gesù con i colori dell'araldica rosso e il blu quindi rosso maschile e il blu femminile e qui insomma qui c'è questo ufficialmente sarebbe Giovanni evangelista che ufficialmente viene definito come una figura un po' effemminata e qui ci abbiamo Pietro che non sembra molto amichevole nei confronti di questa figura di resta attenta a quello che fai gli mette pure la mano qua sotto sotto al collo e oltretutto sembra che lui con l'altra mano tenga un pugnale dietro insomma non sembra molto amichevole nei confronti infatti questa storia torna perché Pietro alla Maddalena non la vedeva bene allora ora io dico già facendo un dettaglio così io lascio un attimo le interpretazioni all'osservatore ma in più io aggiungo una cosa non solo ci stanno innumerevoli opere d'arte qui addirittura ci sono alcune opere medievali in Svezia dove voglio dire secondo voi chi è questa persona è un uomo o una donna guardate il modo come Gesù se la stringe a un certo momento guardate qua fate un attimo un dettaglio poi ci stanno libri bellissimi come la scrittrice olandese Daniele Van Dyck Maria Maddalena Out de Werf è praticamente un libro con almeno 40 opere d'arte dove chiaramente Maria Maddalena nei dipinti giusto? esattamente esattamente e si vede chiaramente questa è una donna e voglio dire perché perché è così scandaloso a certo dire che sia una donna ma oltretutto quello che secondo me mette definitivamente a tacere la questione è Leonardo stesso perché nel suo trattato della pittura Leonardo dice le donne la donna ritratta diciamo su un dipinto deve avere normalmente standard la posa del viso così che gira un po' da una parte e con il mento che sta un po' in giù io a un certo momento ho digitato a caso cercavo alcune figure perché si trovano dei nodi vinciani persino nelle acconciature delle acconciature delle donne ma io cercavo per tutt'altro motivo a un certo momento vedo che Google mi mette queste cinque immagini di donne tutte esattamente con la stessa posizione del viso quindi voglio dire per quanto mi riguarda nelle intenzioni dell'artista questa è una donna chiusa queste sono tutte immagini di Leonardo sono tutte immagini di schizzi di Leonardo di Leonardo di disegni di Leonardo tutti quanti tutti quanti e non solo ma andiamo addirittura oltre perché quindi scusami il San Giovanni che si trova nel dipinto di Leonardo rispecchia questo canone della donna negli scritti di Leonardo giusto? era questo che intendevi allora diciamo mostrando quelle cinque immagini quelle cinque immagini ho interpretato bene quello che dicevi diciamo il motivo per cui ho fatto vedere questa immagine era semplicemente per far vedere come Leonardo nelle sue intenzioni è sempre costante coerente nel ritrarre una donna in un certo modo e siccome la posizione del viso è esattamente la stessa di questa persona noi abbiamo tutti gli elementi per pensare che nelle intenzioni di Leonardo questa è una donna esatto che sia una donna ok ma c'è anche c'è anche di più e tra poco poi arriveremo su San Giovanni che però diciamo è un discorso che io diciamo divido un attimo diciamo tra la Maddalena e Giovanni diciamo sono due discorsi diversi quello che fa un passo secondo me ulteriore è che se noi andiamo a mettere accanto l'uno all'altro l'immagine di questa persona nel cenacolo e l'immagine della Vergine delle Rocce vediamo che c'è proprio un lavoro di copy paste c'è una sovrapposizione Vincenzo guarda qui guarda i capelli guarda i capelli qua e guarda qui e guarda qui e guarda qui questo ha delle implicazioni ancora più forti perché allora significa non solo che tutte e due sono donne ma allora significa che se l'una è Maria Maddalena allora è Maria Maddalena pure quell'altra e io ti dico io ti dico che facendo dei corsi di storia dell'arte mi accorgo che c'è solo una persona nella storia dell'arte che ha come attributo come persona femminile i capelli lunghi sciolti leggermente ondulati ed è solo una persona Maria Maddalena detto questo detto questo Vincenzo vai a guardare quante volte nella storia dell'arte c'è questa cosiddetta Vergine Maria ma allora mi chiedo quale Maria che ha gli stessi attributi dei capelli e qui lascio la cosa qua ma a un certo momento voglio dire no sì prima che arrivino gli strali diciamo della anche perché si è fatto a buio non vorrei che arrivi si sta facendo buio hai ragione dall'alto ma questo ma questo mica è soltanto Leonardo che lo dice un altro un altro gigante dell'umanesimo che è Piero della Francesca se tu vai a vedere vai a vedere questo che sta nel Duomo di Arezzo e questo praticamente questa è la Maria Maddalena che si può vedere solo da chi sta sull'altare cioè chi sta sulla chiesa non lo vede allora con i tre colori io Vincenzo a questo punto ti faccio una domanda secondo te Piero della Francesca cosa sta cercando guarda un po' la figura guarda al centro che cosa succede cosa sta cercando di dire senza dirlo troppo chiaramente cosa ha di particolare secondo te questa donna? Sembra quasi incinta a vederla così esatto vero? esattamente esattamente allora il dubbio è molto più che plausibile qui c'è veramente qualcosa in più allora prima cosa se questa è Maria Maddalena è incinta è incinta di chi? non lo so io non lo dico neanche io neanche io però voglio dire uno più uno fa due ma poi oltretutto altro lavoro di Piero della Francesca la bellissima Madonna del Parto in Toscana a Monterchi questa è chiaramente una Madonna una Parto Oriente ma se noi io sono andato a verificare i due volti della Maria Maddalena della Madonna del Parto eccoli qua sono uguali il principio dietro in entrambi i casi è una Parto Oriente e non solo questo combacia perché? perché questo ha utilizzato lo stesso volto che è il volto della mamma di Piero della Francesca Piero della Francesca lei era la Francesca illegittimo anche Piero della Francesca e anche lui in onore della mamma che ha voluto riportare la mamma in queste opere anche lui è artista in quanto illegittimo e voglio dire Piero della Francesca è un altro che porta con sé una quantità simbolica di contenuti una cosa impressionante Piero della Francesca è un altro gigante ora voglio dire se qui ci sono tutti gli elementi per pensare che queste sono la stessa persona allora sono due Parto Orienti allora è Parto Oriente abbiamo una Parto Oriente sicura e una Parto Oriente sospetta ma allora diventa pure sicura quella sospetta quindi sì sì quindi Andrea comunicazione di servizio abbiamo non sono sicuro se abbiamo ancora tempo abbiamo sforato questo abbiamo sforato ok quello non è un problema ma per la registrazione la registrazione sta devo dire secondo me sta ancora andando però attenzione che potrebbe crollare fra poco se crolliamo poi in più siamo senza luce quindi io farei se attendi un attimo accendo accendo la mia luce perché altrimenti non mi si vede fai pure fai pure fai pure eccoci io la mia luce cerco di fai pure io cerco di diventarla adesso non so non so se diciamo riusciamo ancora andare avanti la registrazione comunque vai pure vai pure avanti vai pure avanti io la cosa guarda è così interessante che non so se potremo pubblicarla questa cosa la farò vedere prima a due tre io sono allora diciamo sicuramente sicuramente io sono sicuro che non tutti saranno d'accordo perché a un certo momento io tiro fuori delle cose però voglio dire cerco di anche di dimostrarle in un certo modo e lì è sempre il punto il punto della questione che è l'aspetto sottile dell'arte e che viene questo regolarmente messo da parte io su una su un libro di storia dell'arte o voglio dire non parliamo delle guide turistiche parlo anche dei libri a scuola questo modo di concepire l'arte l'arte è io lo dico sempre Vincenzo l'arte e la cultura sono la nostra occasione di crescita personale perché in realtà tutte le opere d'arte che sopravvivono il tempo sono portatori o portatrici di valori universali e questi valori universali sono fatti per tutti per ciascuno di noi non importa da quale estrazione veniamo da quale periodo veniamo di quale razza siamo non ha importanza e questo secondo me è il vero grande valore perché perché l'artista ha il dovere oltre a di come dire di piegarlo alle leggi della natura perché tutto deve essere con i giusti materiali nello giusto momento con le giuste proporzioni ma lì ci deve essere la verità e questa verità è stata messa lì per noi per noi e questo qui è quello che dico sempre nelle conferenze quindi diciamo nella secondo te secondo la tua teoria che tu dimostri con questa questi paralleli fra dipinti l'idea di Leonardo sulla sulla natalità di Gesù sulla vita di Gesù è un po' diversa da quella canonica che viene però lui non la può dire per evitare per evitare problemi e quindi la mette la mette in scena nei suoi dipinti in un modo molto furbo perché esattamente dissimula centinaia di anni dopo quindi 500 anni dopo qualcuno si renderà conto studiando in maniera decisiva ma anche elettronica queste immagini si renderà conto di questi paralleli che all'epoca magari nessuno aveva visto forse tranne i francescani che erano un po' più scapati ma io io sono convinto io sono convinto lo sono ancora oggi sicuramente sicuramente ma io sono convinto che gli stessi gli stessi colui che dà un incarico spesso che a volte viene addirittura un incarico da parte del Papa qui adesso non abbiamo tempo ma io ti potrei fare degli esempi per quanto riguarda il Bernini questo mi aiuta facciamo la prossima volta tranquillo volentieri volentieri ti ringrazio ti ringrazio mi sembrano veramente interessanti hanno una spaziano diciamo in mondi che non si non si trovano facilmente quindi complimenti davvero vai pure avanti grazie grazie Vincenzo grazie guarda io penso che alla base di tutto ci sia il capire e questo secondo me è veramente la chiave di volta il capire che l'intenzione dell'artista è quella di fare di per sé una cosa che poi di conseguenza verrà anche tramandata a livello di informazione ma l'idea è di fare un un'opera d'arte o un qualche cosa dove praticamente ci sia è il bello è il vero è la condizione la condizione sine qua non perché in questo modo si apre fatta questa opera d'arte si apre letteralmente un ponte quello che è bello attira qualcosa di bello dall'alto come uno specchio e io questo la cosa che io trovo così bella è che la trovo nella pittura la trovo nella scultura la trovo nell'architettura di un palazzo la trovo fino nella progettazione di una città studiando la pianta di Amesford trovo delle cose ritrovo delle cose che io ho trovato in città italiane ho trovato a Siena ho trovato a Perugia ho trovato in città etrusche e in qualche modo c'è una una preoccupazione da parte della della di chi fa di chi realizza questo di fare l'opera d'arte che rispecchia la verità e che rispecchia i canoni delle leggi della natura e i canoni celesti perché soltanto così tu ti puoi permettere di poter dire che hai riprodotto la creazione divina e questo vale per tutti gli artisti ed ecco perché il concetto dell'artista è in realtà molto più complesso e profondo del concetto d'artista talentuoso che abbiamo adesso qui c'è tutto quel talento va incanalato affinché in qualche modo poi sia artefice di una cosa come se l'avesse fatta Dio stesso con le stesse leggi con le stesse leggi è qui la difficoltà ma è anche qui il patto il patto dell'artista da cui per noi questa cosa ha conseguenza perché ha conseguenza perché dal momento in cui c'è una cosa che da una parte rispetta le leggi della natura rispetta l'intima armonia e natura dei materiali ma dall'altra parte rispetta anche la verità in qualche modo dissimulata anche perché voglio dire secondo me è anche lo stesso chi dà l'incarico lo stesso Papa io se abbiamo il tempo io ti faccio vedere delle immagini della scappella Sistina dove vengono scelti tutti i papi io ti faccio vedere un'immagine di Michelangelo della creazione e ti faccio notare due cose e se ti faccio notare e voglio dire qualcun altro me l'ha fatta notare non è che me lo sono inventato io ma se te le faccio vedere quella creazione di Michelangelo poi non la vedi più allo stesso modo va bene Andrea allora noi per oggi ci fermiamo qui ma la tua presentazione continua qui questa è la fine della prima parte ma la seconda parte è sul tuo sito che noi linkiamo qui al lato e mi raccomando non perdetela sul sito di Andrea Maddalena www.andreamaddalena.com troverete la seconda parte di questa bella presentazione su Leonardo da Vinci e noi invece ci vediamo la prossima volta grazie a te Vincenzo infinitamente grazie a te Vincenzo